ragazze benvenute nel mio canale questa settimana voglio proporvi per voi un'idea di un tatuaggio realizzato disegnando semplicemente delle rose la tecnica scelta per realizzare questa nell'art è proprio la micropittura di base è molto semplice ed accessibile a tutte queste idee in realtà può essere utile per una serata di san valentino se proprio non avete comunque grandissime idea ovviamente comunque potete realizzarle su una base rossa e con delle rose bianche io invece l'ho realizzata in questo modo se vi piace seguite il tutorial una volta opacizzata la base colorata inizio subito a preparare la pittura acrilica nera e un pennello dalla punta piatta ed arrotondata inizio a fare dei piccoli semicerchi partendo dal centro e man mano inizio comunque ad allargarli questa evidentemente è una rosa poi ne aggiungo di quante rose voglio in base all'anel art che ho deciso comunque di comporre una volta realizzata le roselline inizio a disegnare delle goccine intorno a loro poi per rendere il motivo molto più tribale e sofisticato inizio comunque a disegnare delle linee e ad aggiungere delle foglioline proprio per richiamare la rosa stilizzata una volta terminata la nail art applico il top coat che rimane tutto lucido ragazze io spero solo che l'idea vi sia piaciuta e ci vediamo presto in un prossimo video mi raccomando iscrivetevi ciao